Quale può essere il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti per incentivare l'innovazione e l'imprenditorialità anche visti i progetti di questa mattina? Ti ringrazio per la domanda, oggi ho visto tantissime idee interessanti, ragazzi giovani ma anche ragazzi di varia estrazione all'età e sicuramente Cassa Depositi e Prestiti ha molto a cuore questo tipo di temi, il terzo settore è sempre più importante per l'Italia, vediamo che comunque ci sono diverse iniziative da fare in questo ambito e noi comunque cerchiamo di sponsorizzare qualsiasi tipo di iniziativa per il paese anche da questo punto di vista. Quindi non so dirti, ci sono diversi veicoli che CTP mette a disposizione, sicuramente qualche soluzione si può trovare fra lato venture, lato fondazione, no profit e vediamo anche insomma come andrà a finire qui. Grazie mille.